Ben ritrovati a questo nuovo aggiornamento meteo. Domenica ci raggiungerà una nuova perturbazione, si tratta della numero 7 del mese di gennaio che porterà diverse piogge soprattutto al sud e sulle due isole maggiori, mentre da lunedì avremo un temporaneo miglioramento e si interromperà anche l'afflusso gelido proveniente dai Balcani. Diamo subito uno sguardo alla previsione per la giornata perché sarà una domenica piuttosto nuvolosa un po' su tutto il territorio. Le maggiori schierite li ritroveremo a nord-ovest, piogge invece sul Lazio e sulla Sardegna, in estensione poi dal pomeriggio anche al sud e sulla Sicilia con nevicate a quote collinari lungo l'Appennino meridionale. Anche qualche nevicata sarà possibile sulle Alpi di confine. Attenzione soprattutto alle temperature perché sarà ancora una domenica decisamente gelida sull'Italia con valori inferiori alla media stagionale, le temperature saranno in lieve rialzo sulle isole maggiori e generalmente comprese fra i 3 e i 15 gradi da nord a sud. Per tutti i dettagli potete consultare la nostra app aggiornata meteo.it Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.